Ciao ragazzi, questo è un nuovissimo video Ragazzi, oggi andremo a fare un bel po' di enduro Andremo qua di fianco da me, andremo su quelle montagne Non so, adesso faremo il giro perchè lì c'è troppa erba per passare Ragazzi, come ho detto prima, io lo chiamo enduro perchè è così Però se non lo volete chiamare enduro perchè non è enduro Più o meno sarà una scampagnata Non voglio che dopo vengano nei commenti e dire questo qua non è veramente enduro perchè lo so Io lo faccio solo per divertirmi Porco giura, che cazzo è stato? C'è stato un ciocco che secondo me faccio spoderno a casa Namo Ragazzi, lo scorso video del bcvlog ragazzi in pochissimo tipo in un'ora viaggiare a 110 like Ottimo, è vero che vi piacciono molto Che hanno molta più qualità di discorsi col telefono Quindi conteniamo così Otto Mi piace Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.